Benvenuti in questa nuova puntata, io sono Federico Ronzoni e prima di osservare il grafico di Bitcoin che bene o male non è variato più di tanto, è rimasto sempre lì in questo range che ormai lo accompagna da inizio novembre e dovevamo cercato di uscirne con i dati sull'inflazione ma poi Powell ci ha detto no ragazzi calma dovete stare ancora in questo box ancora per un po' e noi abbiamo detto ok, Santarelli forse non ci sei, Babbo Natale non arriva e quindi non riusciamo a scavalcare questa zona qui e ritornare dai 18 mila dollari fino ai 20 mila dollari, 21, 22 quella zona lì ma il grafico di Bitcoin lo andremo a analizzare più tardi perché anche se il prezzo di Bitcoin sta scendendo ci sono comunque delle notizie positive di cui parlare ovvero questo grafico qui che è la dominance di Bitcoin perché finalmente la dominance di Bitcoin sta salendo, non sta salendo in maniera chissà quanto forte, elevata e in pochi secondi ragazzi è un video breve non ci sono tante novità da dire o da aggiungere quindi cercherò di essere il più conciso possibile quindi mi raccomando guardate questa puntata fino alla fine e se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e supportatemi con un mi piace vuol dire davvero tanto per me quindi metti like adesso in questo video comunque la dominance di Bitcoin sta salendo guarda caso proprio da quando siamo iniziati ad entrare in quel range dopo la capitolazione con il crollo di FTX ora come ci siamo sempre detti Bitcoin può benissimo scendere, può benissimo andare a fare nuovi minimi, la situazione rimane quella che è, l'SP500 rimane estremamente debole, oggi abbiamo fatto meno 1.45% rimaniamo in questo downtrend, non c'è nessun segno ragazzi di inversione di trend al momento, quindi Bitcoin non può andare da nessuna parte nel breve termine e non ha neanche la forza per andare su però, 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 però c'è una notizia positiva che riguarda questo cambio di trend da parte della dominance di Bitcoin che perché è importante, perché è importante che la dominance di Bitcoin salga perché ragazzi per avere una sorta di minimo da qualche parte dobbiamo vedere che Bitcoin inizia, come vi ho detto qua in questo video che vi consiglio di andare a vedere qualche giorno fa vi ho detto come Bitcoin deve fare queste cacchio di candelone verdi, non so quando succederà, ragazzi non ne ho la più palida idea di quando succederà la settimana prossima, spero, tra 5 mesi, ottimo, ma se succede si deve portare appresso la dominance che deve salire e già il fatto che stia salendo adesso è un buon segno questo secondo me è la cosa che manca per essere, tra virgolette, sempre più certi di avere una sorta di minimo del mercato Bitcoin, la dominance di Bitcoin che sale, Bitcoin che prende forza e poi le alt seguono, ma dopo, non subito, Bitcoin deve essere il leader di questo mercato come lo è attualmente poi le cose possono cambiare, tra 5 anni le cose potrebbero essere diverse, magari nella prossima bull run Ethereum flipperà, no? Bitcoin siamo più o meno a un 50%, la market cap di Ethereum un 50% rispetto a quella di Bitcoin, quindi più o meno siamo lì circa lo so che non è il 50 e qualcosa in meno, ma ci siamo capiti, è un 40 qualcosa, 45, 46, adesso non mi ricordo però quello che dobbiamo vedere è una dominance che salga ragazzi, la dominance che non significa vedere le altcoin morire in prezzi del dollaro ma Bitcoin deve prendere forza, le altcoin devono fare fatica in prezzo di Bitcoin Ethereum BTC deve ragazzi darci un attimo una calmata, guardate qua che sta già cercando di risalire al momento siamo in un trend discendente, no? Ok? Poi sul lungo siamo d'accordo che è un trend in risalita ma anche lo stesso BNB BTC è ottimo che abbia perso tutta questa strada qui, anche se BNB è ottima quello che è, Binance insomma, abbiamo bisogno che comunque queste altcoin vadano a perdere forza andiamo a vedere tutte le altre criptovalute, Matic, BTC, anche lo stesso Doge, no? cioè devono tutte andare a perdere piano piano, Cardano, guardate quanto ha perso in prezzo di Bitcoin Solana, non parliamo di Solana ragazzi, è un completo disastro, c'è chi ha paragonato il grafico di Solana Solana ha un grafico di un albero di Natale, non dimentichiamocelo che c'è chi ha fatto le palline di Natale questo è il grafico di Solana, quindi il discorso è che comunque in generale, non che comunque il grafico di Bitcoin si è messo meglio, ma il discorso è che deve salire la dominance, dobbiamo vedere la dominance salire per vedere la dominance salire c'è bisogno che Bitcoin prenda le redini di questo mercato è della cosa non per forza essenziale, ma che se succede ci dà quell'indicazione di bottom che effettivamente è stato fatto con una dominance così bassa forse è ancora presto per chiamare questo il bottom infatti nel breve termine comunque c'è ancora, nel breve medio termine ragazzi comunque siamo da novembre 2021, guardate questo grafico sono tutte candele da 4 ore da novembre 2021 ad oggi che è un grafico discendente, stop, fino a quando questo grafico non fa una sorta di cambio cioè lo capirebbe un bambino, è un grafico che va giù, ok basta quindi non c'è da dire bull to the moon, ormai ovvio, ovvio ragazzi questo per chi fa investimenti di lungo termine, questo periodo è un periodo d'oro ragazzi cioè questo mi sembra scontato e ormai non lo ripeto più sul breve è ovvio che può scendere, ma il discorso è sempre lo stesso Bitcoin è lo stesso di un anno fa, di quando valeva 69 mila dollari su breve termine rimaniamo in una strada ancora complicata perché siamo a 16.787 dollari, siamo ancora sotto questo livello qui che come vi ho già detto tante volte fino a quando non lo superiamo ragazzi c'è poco da fare, guardate quante volte abbiamo provato a resistere in questo supporto che adesso è diventata resistenza voi pensate che con una candela in un giorno riusciamo a superarlo molto probabilmente ci saranno altri test su questa trendline a meno che non ci sia un Burj Khalifa di candela verde immaginate che questo sia il verde però abbiamo bisogno di una roba del genere che al momento non c'è, al momento non c'è guardiamo anche il volume su Bitcoin, è bassissimo non c'è volume al momento, non c'è volume guardate andiamo sul giornaliero, cioè dov'è? dov'è il volume? Non c'è, non c'è il volume qualcuno ha visto il volume? Non c'è, il volume è inesistente in questo momento quindi non c'è modo per salire attualmente poi se sale bene, io ripeto secondo me il peggio l'abbiamo già passato siamo in una fase ora noiosa di consolidamento quello che è, sul lungo termine questa è una zona perfetta per chi vuole accumulare e per chi vuole fare poi i soldi nel prossimo bull market, se crede che ci sarà ovviamente non sono così, finanziarli, fate sempre le vostre ricerche prima di mettere il vostro capitale a rischio sui mercati quello che vi posso dire è che io personalmente sto sfruttando questa situazione e io in realtà mi auguro che il 2023 non sia un anno negativo come quello che stiamo andando a chiudere ora il terzo tra l'altro, no, il quarto anno se consideriamo va bene, il 2011 non lo prendere in considerazione prendiamo dal 2012 in poi è il terzo anno rosso tra l'altro per Bitcoin quindi abbiamo 1, 2, 3 con più o meno percentuali simili meno 56 nel 14 meno 73 nel 18 e meno 63 nel 22 quindi siamo in una tendenza che sarà verde l'anno prossimo è facile dirvelo dipenderà tanto dalla macroeconomia permettendo però l'inflazione negli Stati Uniti sembra ormai in discesa i tassi di inflazione dovrebbero diminuire come vi ho condiviso tante volte qua all'interno del mio gruppo Telegram gratuito Tartro lo trovate il link qui sotto in descrizione i tassi di interesse della Fed dovrebbero iniziare a diminuire all'interno più o meno nel 2023 ora si pensa intorno a un Q1 Q2 vedete adesso siamo a 4,5 magari arriverà fino ai 5,5 al momento bisogna sempre vedere l'inflazione però più o meno scenderanno già nel 2024 dal 2023 al 2024 si aspetta al momento una discesa considerando l'halving è tutto 2024 fine 2024 magari 2025 sarà la prossima bull run di Bitcoin supportato ovviamente da un Quantitative Easing ovvero un taglio di tassi di interesse e anche da che cosa ragazzi? da l'halving di Bitcoin e soprattutto ragazzi soprattutto da un dollaro che scende perché? perché ci sono sempre più dollari e quindi questo deve scendere i mercati diventeranno risk on e questo deve andare giù poi ovviamente c'è chi dice che no in realtà questa è la crisi più finanziaria più grande che ci sarà peggio del 2000 ragazzi sono opinioni vedremo un po' cosa succederà io non penso che succederà tutto questo il peggio il disastro la caduta del mondo a fine del mondo non penso che succederanno queste cose ovviamente non è positivo perché comunque questo è l'anno peggiore dopo il 2008 ricordiamoci che nel 2008 il mercato ha fatto un meno 38% noi ora abbiamo fatto un meno 20% quindi siamo più o meno come in un 2000-2001 più o meno facciamo un 2000 dai un 2000-23-19 sì può scendere ovviamente ancora tanto il mercato quanto secondo me il massimo che potrebbe fare è ancora arrivare a 3000 fare ancora un altro meno 20% però comunque significerebbe gravi problemi a livello macroeconomico che bisognerà vedere un po' come si evolve la situazione ma non sono così pessimista ovviamente in una situazione del genere ragazzi bitcoin cosa pensate che rimarrà a 17.000 dollari se l'SP500 ci fa un altro meno 20% assolutamente no certo è che comunque da situazioni così ci sono sempre grandi opportunità comunque io non penso che accadranno tutte queste cose qui negative credo che il peggio sia passato che sì si possa ancora scendere ulteriormente ma insomma la discesa l'abbiamo fatta ora vediamo se il Natale ci porta anche una sorta di mini rally se riusciamo anche a salire un pochettino sarebbe bello se con i rally di Natale riusciamo a superare questi 18.600 il problema è che se li superiamo molto probabilmente non c'è volume si tratterebbe di un fake pump comunque dovrebbe fare un più 10% che secondo me difficilmente riuscirà a superare questo mai dire mai spero di sbagliarmi però magari difficilmente magari può fare un altro tocco qui nelle prossime settimane concludere fare questo rally di Natale per poi però continuare a lateralizzare qui non basta cioè guardate ragazzi 15 volte l'ha toccato questo livello considerando che poi qua sopra ci sono tutte le medie importanti avete la media 300 la media 200 la media 21 cioè c'è di tutto c'è di tutto qua guardate quante medie ci sono non è facile superare questa zona qui la media 21 andiamo alla media 300 se andiamo sul giornaliero c'è la media 200 eccola qui capite che va bene è un po' più sopra però è 20.000 non è facile qui serve il volume serve una notizia positive serve fiducia sul mercato che forse è ancora un momento un po' presto soprattutto con i mercati attuali perciò ragazzi per questo momento è tutto vi ricordo due cose molto importanti la prima è che il mio corso il canto della tartaruga è in offerta fino a il 26 è un corso che chiuderà poi non sarà più disponibile quindi se volete usufruirne secondo me è fondamentale per chi vuole investire in in borsa comunque sui mercati finanziari avere un corso del genere perché vi dà un assetto psicologico e di money management fondamentale e in più ragazzi vox populi vox day perché vi ho fatto questo sondaggio volevate un gruppo di trading dove vi mandavo le mie idee l'ho fatto questo è il mio gruppo unitevi tartarwood trades si chiama è un gruppo dove io mando idee pensieri che faccio sui miei trade come vedete io effettivamente poi gli vado a fare questi trade tra l'altro questo trade qui l'abbiamo fatto poi in cioè l'ho fatto e praticamente è andato a zero cioè nel senso non ho fatto né guadagni né profit né perdite ma va bene così io sarò molto trasparente scordatevi i percentuali da 400% in 30 giorni ragazzi cavolate ok per non dire parolacce per non essere volgare cioè io vi manderò magari qualche giorno ogni tanto delle mie analisi ma saranno analisi totalmente trasparenti con un rischio dai ragazzi sono cose serie ok per chi mi conosce lo sa quindi non aspettatevi percentuali ridicole ah no diventa ricco milionario in due giorni ragazzi sono cose serie ok per questo video è tutto noi ci vediamo alla prossima link in descrizione se volete come al solito vedere i broker che io utilizzo per fare gli exchange non broker che io utilizzo per fare trading sulle crypto ma anche i broker che io utilizzo per investire e fare trading ciao ragazzi alla prossima